Cari amici, un saluto da Nat Russo. Voi che come me amate i viaggi e avventura, vi racconto brevemente pochi cenni dalla Nuova Zelanda. Il Milford Sound, un'isola del sud. Milford Sound è una delle aree più piovose della terra e offre uno sfondo verde smeraldo ricco di cascate. L'ideale per il trekking, la mountain bike e il kayak. La regione di Fjordland si estende per oltre 200 km verso sud fino alla fiord di Preservation Inlet con un'ampia maglia di sentieri adatti a ogni tipo di veicolo purché non sia a motore. Il motore è nelle vostre gambe ma soprattutto nella vostra testa. Un saluto da Nat Russo. Arrivederci in Nuova Zelanda.